Nuovi contagi da covid in campagna, dove ieri ne sono stati registrati 270, e nel comprensorio cilentano, dove sono in aumento negli ultimi giorni e nelle ultime settimane in varie località. Ad Agropoli l'attesa dei risultati di ben 23 tamponi è quasi terminata, quasi tutti negativi, ne restano pochi da processare. I tamponi sono legati alla positività al virus di un cittadino del napoletano sposato con una persona agropolese, arrivata in città dalla Sardegna in barca. Intanto è guarito anche l'ultimo positivo restante dei contagi di fine luglio. Attenzionato caselle in Pittari, dove il piccolo focolaio, partito da un ristorante del posto, ha generato 12 casi di covid e dopo 83 tamponi effettuati, registrate altre tre positività. A Capaccio Pestum e Ceraso restano rispettivamente a 8 e 7 contagi, dovuti a rientri dalla Sardegna e dall'estero. A colpite anche località fino ad ora covid free, come Altavilla Silentina, dove questa mattina proprio l'ente comunale ha comunicato la notizia di altri due tamponi positivi. A seguito dell'analisi dei contatti della coppia di positivi al covid-19 risultano contagiati anche i due figli. Salgono pertanto a 4 i casi di covid-19 residenti nel comune di Altavilla Silentina. I ragazzi sono asintomatici, stanno bene e sono in isolamento dal giorno 26 agosto, ci tiene a precisare il sindaco. Nel comune di Albanella i casi accertati sono due, mentre a Trentinara uno. Tutti i tamponi sui contatti del soggetto positivo sono risultati negativi. Monteforte-Cilento un contagio. Pisciotta invece, dopo i 23 contagiati, accertati ed una vittima, è vicina al ritorno a zero casi, con poche persone ancora positive ed in via di guarigione. Un contagio a Centola. A doliastro-Cilento invece è rientrato l'allarme legato al 53enne, che si è rivelato un falso positivo, dopo essere stato trasferito al covid hospital di Scafati. Più di 100 tamponi effettuati sui contatti dell'uomo asintomatico, avuti anche col personale medico dell'ospedale di Agropoli, ovviamente tutti con esito negativo.